E questa domenica protagonista anche la passione per il modellismo insieme alle sue storie, Giorgina Zapparoli. Un paesaggio giapponese attraversato da una ferrovia, il tutto contenuto in una valigetta. A realizzarlo in scala Z, la più piccola del modellismo, il genovese Raffaele Picollo, che è stato invitato a presentare l'opera a Osaka. Per me è stato un motivo d'orgoglio enorme perché partire da Genova con un plastico dedicato al Giappone e ottenere un discreto successo da un pubblico giapponese è sicuramente una cosa che non mi aspettavo. Da bambino giocava con i trenini insieme a suo fratello Paolo. La passione è partita da lì. Per i suoi plastici però Paolo ha scelto la scala più grande e atmosfere western. C'erano anche loro alla borsa a scambio del modellismo al Tower Hotel, manifestazione di riferimento per gli obbisti del centro nord. A organizzarla il gruppo fermodellistico genovese, il più antico d'Italia. Discutiamo su quello che è l'ambientazione della ferrovia sia nelle varie epoche che anche nel mondo in miniatura. Questo editore di Sant'Olcese è diventato un riferimento per i modellisti liguri. Ferrovia Genova Casella ma anche l'antica guidovia della Madonna della Guardia e stiamo preparando altri libri sulle ferrovie del territorio ligure. Il modellismo stesso è l'oggetto di questo minuzioso diorama che ha già vinto diversi premi. L'autore Paolo Torre qualche anno fa è stato chiamato a far parte dell'equip che in America ha realizzato un'Europa in miniatura. Per il plastico americano ho realizzato la parte delle Cinque Terre, le scogliere di Dover e la Grecia. Tra i banchi degli oltre 60 espositori anche trenini a molla degli anni 30, navi da guerra, bambole e particolari di case in miniatura.